Carissimi amici, sono onorato di poter introdurre la 49esima settimana sociale dei cattolici italiani. Rivolgo un saluto affettuoso a tutti i confratelli vescovi presenti, con speciale pensiero per Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato Scientifico e organizzatore delle settimane sociali dei cattolici italiani. Un saluto alle autorità della Regione Puglia e della città di Taranto, ai membri del Comitato che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni e a tutte le delegate e i delegati provenienti dalle diocesi d'Italia. Siamo davvero tanti e questo mi allarga il cuore. Ci troviamo a Taranto dopo un cammino impervio. Se ci guardiamo attorno o soprattutto alle spalle e ripensiamo alla bellissima esperienza di Cagliari nell'ottobre del 17, sembra essere passato tantissimo tempo e invece sono trascorsi appena tre anni. Tre anni molto duri, in cui soltanto adesso iniziamo a intravedere la luce in fondo a questo lungo tunnel della pandemia. La luce di Cristo, che è speranza per tutti i popoli, ci accompagna dunque in queste giornate promosse dalla Chiesa italiana che rappresentano una prima tappa del cammino sinodale che abbiamo appena iniziato. Anche io l'ho sottolineato domenica scorsa, aprendo il cammino iniziale. Questo appuntamento è senza dubbio l'espressione di una Chiesa che si apre e dialoga col mondo. E lo facciamo ritrovandoci a Taranto, una città portuale sorta in un luogo storicamente strategico di quel bacino del Mediterraneo che rappresenta non solo il cuore pulsante della nostra civiltà, ma anche il mare della triplice famiglia di Abramo, il mare cioè in cui si affacciano tre diversi mondi religiosi e culturali, ebrei, cristiani, islamici, che possono vivere in pace, come auspicava Giorgio Lapira. Taranto, però, non è solo un grande porto, ma è anche una città simbolo della sidergia italiana e uno dei maggiori complessi industriali d'Europa. Come non ricordare, infatti, la visita di Paolo VI all'acciaieria Ital-Sidl nel 1968? Quando si diventa vecchi ci si dimentica di qualche cosa, ma grazie a Dio le cose più importanti rimangono impresse nella vita. Come dimenticare quella visita? In quegli anni, 68, che erano carichi di tensioni sociali. Papa Montini celebrò la messa tra i lavoratori degli altiforni di quel colossale centro siderurgico e pronunciò un'omelia, le cui parole risuonano ancora oggi nei nostri cuori con sapenza profetica. Non ebbe paura a dire la distanza che allora, e forse in parte anche ora, c'era fra il mondo del lavoro e la Chiesa. Chiamò veramente le cose per nome e disse «Noi facciamo fatica a parlarvi. Ci sembra che tra voi e noi non ci sia un linguaggio comune». Eppure, continuò al pontefice, «Vi diremo una cosa semplicissima, ma piena di significato. Lavoratori che ci ascoltate, Gesù, il Cristo, è per voi». Questi semplici parole, pronunciati in un contesto storico, caratterizzato da passioni vehementi e scontri in fabbrica, avevano un grande obiettivo. Ricordare a tutti i lavoratori che la Chiesa è madre, che la Chiesa non è cieca ai bisogni e non è sorda alle grida di aiuto degli ultimi, come hanno dimostrato le parole di tutti coloro che mi hanno preceduto. Perché la Chiesa, concluse Paolo VI, riconosce il bisogno di giustizia del popolo onesto e lo difende come può e lo promuove. Queste parole, a 50 anni di distanza, conservano ancora, in questa settimana sociale, il cui titolo è il mondo che speriamo, la loro straordinaria attualità. Il mondo contemporaneo è molto diverso da quello vissuto da Montini. Eppure, come ieri, la Chiesa è madre e non matrigna, ha a cuore i suoi figli, a partire da quelli più fragili e indifesi, e in virtù di questo grande amore verso l'umano e non certo in nome di un'ideologia, promuove, come disse Paolo VI, la giustizia civile e sociale. Perciò dobbiamo chiederci, quale significato assume nel ventunesimo secolo la volontà di promuovere la giustizia civile e sociale? Innanzitutto significa difendere e valorizzare in ogni latitudine, in ogni circostanza, il valore incalpestabile della dignità umana. La persona umana non si può sfruttare, non si può mercificare, non si può uccidere. Nessuna ragione economica può legittimare qualsiasi forma di schiavitù fisico-morale di un uomo, di una donna, di un bambino. Sono profondamente amareggiato e deluso per i troppi incidenti che avvengono nell'ambito del lavoro, per non dire dei feriti. La difesa e la promozione della dignità della persona umana, ha scritto San Giovanni Paolo II, ci sono state affidate dal Creatore. Di essa sono rigorosamente e responsabilmente debitori gli uomini e le donne in ogni congiuntura della storia. In secondo l'uomo, promuovere la giustizia civile e sociale assume oggi un significato ulteriore, anche dalle parole che abbiamo ascoltato dall'audato sì, che ci esorta a sviluppare, a promuovere un'ecologia integrale. Non è soltanto un richiamo alla difesa dell'ambiente in cui siamo immersi, ma è soprattutto un'esortazione a vivere una esistenza interdipendente. Non c'è niente da fare, giovani. Noi siamo legati gli uni agli altri. Gli esseri umani non sono delle monadi individuali che vivono per se stesse, ma sono intrinsecamente degli esseri in relazione, due virgolette, in relazione con il Creatore e con il creato. Se la Terra ci è donata, scrive Papa Francesco, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. Si tratta, come capite, di una intuizione di grande portata storica che innova profondamente il magistero sociale della Chiesa. La dottrina esce dalla bottega e dalla fabbrica e abbraccia il mondo intero, loikos, la nostra casa comune. Secondo la proposta di Francesco, l'invidualismo, l'utilitarismo, che caratterizzano così profondamente la mentalità collettiva del mondo contemporaneo, possono trovare un'argine in una comunità di uomini e di donne che si riscopre non solo il valore della relazione interpersonale, ma anche la centralità dell'interdipendenza. L'interdipendenza non è tanto una categoria sociologica quanto un valore aggiunto per la società contemporanea. E lo abbiamo ben visto durante la pandemia. Perché se è vero che il virus si è diffuso velocemente in un mondo globalizzato, è anche vero che altrettanto velocemente è stata costruita una difesa sanitaria e sociale contro l'epidemia. Una difesa che però, come sappiamo benissimo, non ha la stessa forza nel sud e nel nord del mondo. Ancora oggi dunque i popoli della fame vivono drammaticamente la distanza sociale dai popoli dell'opulenza. La pandemia ha lasciato una grande eredità, un'eredità purtroppo durissima e incalcolabile nelle nazioni più povere e un'eredità invece ben visibile nei paesi più sviluppati come l'Italia. Penso ai tanti cari morti, alle sofferenze di moltissime famiglie, alla difficile situazione economica di molte aziende e infine al drammatico bilancio in termini di frustrazione sociale. I bambini, io me ne accorgo come sacerdote, quanto hanno patito i bambini a dove sta chiusi per mesi e mesi in casa. Le immagini delle proteste e dei disordini di piazza in alcune città italiane mi hanno colpito profondamente. C'è un malessere sociale che cova nelle viscere della nostra società e che riemerge ogni volta c'è una crisi umanitaria. In precedenza erano i migranti. Oggi la pandemia, molto spesso, però, a pagare le conseguenze di tutto ciò sono i nostri giovani, i nostri figli. Occorre pertanto un balzo in avanti. Serve uno sguardo lungo sulle sorti dell'Europa e dell'Italia. Alla settimana sociale di Cagliari auspicai, forse qualcuno se lo ricorderà, un piano di sviluppo per l'Italia che partisse dalla valorizzazione della fragile bellezza del nostro Paese. Perché la bellezza è qualcosa di inesprimibile, ma a qualunque livello essa si trovi è sempre fragile. Un grande investimento sul patrimonio paesistico, culturale, artichetonico d'Italia. Confermo tutto quello che dissi tre anni fa. Mai, come oggi, è necessario un nuovo patto sociale fra tutti gli uomini e le donne italiane di buona volontà per mettere a tema l'Italia e il suo futuro, facendo proposte concrete e non solo belle parole sul nostro Paese, che se ne sentano tanti. Ma oggi, accanto a un piano di sviluppo per l'Italia, c'è bisogno anche di altro. Qualcosa di più profondo serve una profezia sull'Italia. È necessaria una voce alta, autorevole, che sappia leggere i segni dei tempi, ovvero sappia comprendere e interpretare questo scorcio del ventunesimo secolo. Sbaglieremo tutti quanti. Se pensassimo che finita la pandemia, tutto tornerà come prima. Non sarà così. Ormai da anni Papa Francesco, e ce ne parlò nel 15 a Firenze, stiamo vivendo un eccezionale cambiamento d'epoca che necessita di nuove categorie, nuove parole chiave e anche nuove personalità. Un nuovo umanesimo, disse il Papa a Firenze e lo disse con forza, fondato su Cristo. in lui, e in lui soltanto, è il nuovo umanesimo. Il baricentro del mondo sembra davvero spostarsi sempre più verso Oriente. E anche se la potenza politicamente più importante si trova collocata nella parte più occidentale del pianeta, l'Italia e l'Europa rischiano di trovarsi in una grande terra di mezzo. Ve ne accorgete, no ragazzi? E questo rischia naturalmente di far sì che le terre di mezzo, poi a lungo andare, diventino terre di periferia. E infatti, che vedete, che vediamo? Una terra di vecchi, caratterizzata da un gelido inverno democrafico. L'Italia è al primo posto per la mancanza di nascita di bambini. Da uno sviluppo economico sempre più asfittico. E infine una terra che sta abbandonando, neppure troppo lentamente, il cristianesimo. E lo spopolamento anche delle nostre campagne, delle nostre montagne. Io ho apprezzato tanto che un bel gruppo di vescovi si siano ritrovati insieme per discutere questi problemi. La gente perché lascia? Quali sono i fenomeni, i problemi? come capite, non è una prospettiva entusiasmante. È per questo che ci vuole, ed è necessaria, una grande speranza. E ve lo dice un vecchio di 80 anni. Perché? Perché noi alimentiamo la nostra speranza. Perché lo Spirito di Dio continua a soffiare al di là delle nostre competenze, delle nostre intelligenze e delle nostre capacità. Per questi motivi ho detto che serve una visione profetica. E venga voi ora, cari ragazzi. Voi di questo dovete essere protagonisti. Quando parlo di profezia mi riferisco, per esempio, alla profezia di pace fatta più di 50 anni fa da Giorgio Lapira e che vedeva la costruzione di un nuovo mondo di pace, solidarietà e carità nel Mediterraneo. E tra pochi mesi cercheremo di fare qualcosa di concreto in questo senso, perché non mancano le parole. Una profezia che per l'Italia svela anche una grande missione per il futuro. Essere alla testa, e questo tocca a voi, soprattutto a voi laggiù dell'Oggione, eh. Essere alla testa di quei promotori che vogliono realizzare concretamente questo mondo di pace. Quando parlo di nuovi protagonisti mi riferisco soprattutto a voi giovani. A tutti quei giovani però che sono veramente persone liberi. Ovvero non si lasciano sedurre dalle vecchie ideologie del Novecento e non rimangono abbagliati dai nuovi demagoghi. Ragazzi, l'epoca dei pifferai magici, grazie a Dio, è passata e non deve tornare più. Il Santo Padre vi ha incoraggiato col suo messaggio bellissimo per la trentaseiesima giornata mondiale della Giavitù. Leggetelo con attenzione. Il titolo, basterebbe il titolo, giovani risollevate il mondo e come San Paolo alzatevi e testimoniate le opere di Dio che Dio sta compiendo in voi. La vostra numerosa presenza a Taranto oggi mi rincuora e mi consola. L'auspicio è che possiate essere protagonisti in questa settimana sociale e che possiate organizzare un coinvolgimento nelle Diocesi perché i temi che affronteremo siano oggetto di approfondimento e diventano poi occasioni per scelte concrete. La sinodalità passa dalle vostre gambe, capaci di andare incontro ai vostri coetanei. Passa dalle vostre mani, capaci di prendersi cura. Passa soprattutto dal vostro cuore, capace di appassionarsi alla proposta dell'ecologia integrale. Sappiamo che lo Spirito Santo riscalda i cuori, spinge al bene e fa crescere il desiderio della comunione fra tutti. Non dobbiamo avere paura delle diverse sensibilità che abitano la nostra Chiesa, ma dobbiamo guardarci anche dalle chiusure alle novità dello Spirito. Chi non crede alle novità dello Spirito vuol dire che si è messo a sedere. Dopo la pandemia c'è voglia di futuro sui volti delle persone. Non tradiamo le attese di tanta gente. E il futuro di Dio prende le pieghe di un avvento, di un venirci incontro nel risorto, nelle nostre vicende umane. Come cattolici, non vi scoraggiate. Abbiamo ancora tanto da dire, da dare e da ricevere per il nostro Paese. Perciò, come suggerisce il profeta Isaia, irrobustiamo le mani fiacche, rendiamo salde le ginocchia vacillanti e camminiamo insieme il Sinodo. C'è più gioia nella comunione vissuta, anche con fatica, che non nella comoda rassegnazione. Ragazzi, ve lo dico col cuore, non rassegnatevi mai.